ciao ragazzi benvenuti a questo nuovo video oggi parliamo di Thailandia ci sono interessanti novità che arrivano appunto per quanto riguarda la Thailandia quest'oggi le andiamo a vedere ovviamente ragazzi come sempre questa è la playlist Thailandia del canale se ancora non lo avete fatto vi consiglio di guardare questi video commentarli lasciarli anche un like ovviamente commentate e lasciate un like anche a questo video che stiamo facendo appunto quest'oggi ragazzi vi ricordo anche che ieri sera abbiamo fatto una live di 46 minuti Thailandia cosa succederà nelle prossime settimane abbiamo analizzato un po quelli che sono gli scenari e gli eventi da seguirle date più importanti vi consiglio di guardare questa live perché è stata molto interessante tanti di voi hanno poi interagito con domande e osservazioni come sempre ragazzi ora direi sigla e poi cominciamo col video di oggi anche oggi circa 18.000 casi 35 morti vengono segnalati pandemia che in Thailandia sembra un po stabilizzarsi intorno a questo numero 18-19.000 casi al giorno al momento sembra essere quindi scampata la possibilità che i casi possano arrivare alla soglia dei 30.000 casi che avrebbero fatto scattare la revisione del programma testingo quindi per il momento la situazione è questa si va avanti così ci sono zone però della Thailandia dove la pandemia è ancora in crea ancora molti problemi il caso di Buriram una regione del nord di Isra Tailandia dove è stata ordinata la chiusura di tutti i ristoranti e tutte diciamo la vita serale questo perché c'è stato un balzo di casi molto importanti lo leggiamo anche dal questo articolo di Bangkok Post le autorità hanno ordinato appunto la chiusura di tutti i servizi di intrattenimento ristorante e musica dopo che appunto più di 300 casi collegati soltanto a queste attività economiche ovviamente questa è una decisione presa in via cautelativa e al momento non è data diciamo una deadline cioè presa via indefinita vedremo poi quanto durerà sappiamo che anche in Thailandia ci sono aree più vaccinate aree meno vaccinate ma al momento insomma sono decisioni queste sono chiusure parziali a livello governativo centrale non c'è nessuna intenzione di fare altri lockdown c'è anche una notizia molto importante che riguarda il traffico aereo locale e già prepara appunto più rotte per sopportare il traffico locale all'interno dell'area del sud-est asiatico questo perché sappiamo che la Thailandia sta aprendo di una specie di corridoi turistici con la Cina e altri paesi e quindi insomma per Asia una buona opportunità poi di riandare a recuperare parte del fatturato sappiamo che le compagnie aeree sono uno di quei settori che hanno ovviamente sofferto di più per quanto riguarda la pandemia sappiamo che nel sud-est asiatico c'è molto fermento il Vietnam si prepara a riaprire con soltanto un giorno di quarantena le Filippine anche hanno aperto in maniera importante quindi in questo momento insomma sappiamo che la Thailandia sta cercando di capire cosa può fare per rimanere sul pezzo dal punto di vista turistico sappiamo anche che domani c'è una riunione molto importante per quanto riguarda il team di persone che decidono le riaperture o comunque l'aspetto del turismo della Thailandia e quindi sicuramente domani ci aspettiamo qualche altro aggiornamento appunto in un contesto nel quale vediamo che tanti paesi ormai lavorano e implementano le riaperture vedremo se la Thailandia non vorrà correre il rischio di rimanere indietro di perdere poi le prenotazioni che possono arrivare per quanto riguarda i primi slot estivi quindi per quanto riguarda l'Europa i primi viaggi da giugno in poi ovviamente ripeto in questa fase come abbiamo visto i casi sono ancora questo numero ma sono comunque la situazione in Thailandia è ampiamente gestibile quindi il focus ora è assolutamente come far ripartire il turismo posto che il programma testengo ha sicuramente aiutato ma non ha dato quell'impatto economico che la Thailandia si aspetta e quindi per questo è importante domani e leggere le note comunque vedremo quello che così emergerà da questa riunione di domani e soprattutto come venne fatto l'anno scorso si verrà pubblicata una roadmap che ci consentirà di capire quelli che saranno poi i prossimi passi appunto per quanto riguarda la normalizzazione del turismo in una pandemia che ormai è classificata come diciamo infezione endemica e quindi teoricamente le le attività economiche devono ovviamente tornare a marciare come in passato ovviamente ragazzi come sempre fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate vi ricordo ancora la live di ieri sera guardatela perché abbiamo veramente analizzato bene tutti gli scenari anche per quanto riguarda la questione della zona e le novità che sono trapelate poi dal ministro del turismo ieri e ovviamente anche tutto l'aspetto appunto che riguarda poi la possibilità di viaggiare in questo momento considerando appunto la causale del viaggio per turismo scrivetemi qui sotto come sempre nei commenti cosa ne pensate se ancora non avete fatto ragazzi due cose mi raccomando iscrivetevi al canale lasciatemi un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di youtube come sempre quindi ragazzi vi ringrazio per aver visto il video fino adesso ci vediamo come sempre nelle prossime giornate sempre sul canale ciao e a presto